Al via il corso di formazione per le manovre di primo soccorso in caso di problemi cardiopolmonari. A promuoverlo l'associazione Givi Formatori per Passione. L'obiettivo è quello di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica e non vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree. In questo corso noi impariamo a gestire un arresto cardiaco con pure le manovre di disostruzione. Parliamo anche dell'adulto, del bambino, dell'attante e impariamo a gestire queste situazioni che comunque sono alla portata di mano e nella vita quotidiana. Qual è la prima cosa da fare in caso di emergenza? La prima cosa da fare in caso di emergenza è ovviamente allertare il 118 perché è comunque la prima cosa. Puoi iniziare comunque a vedere che problemi ha la vittima e se è una potenziale vittima di arresto cardiaco. In quel caso, in questo corso, noi iniziamo a spiegare per l'appunto come effettuare il massaggio, come si utilizza il defibrillatore e imparare a gestire questa situazione. Quindi in pochi minuti riuscite a salvare una vita? Sì, comunque dobbiamo essere molto veloci a intervenire perché un minuto potrebbe essere fondamentale.